Che cosa possono le leggi dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce. Di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da gettare come ami tra la gente? La linea orizzontale ci spinge verso la materia quella verticale verso lo spirito Inesaclio, destino inesaclio Con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo e ci vuole pazienza si apre allo sguardo interiore inere saughe da sinere aughe La linea orizzontale ci spinge verso la materia quella verticale verso lo spirito La linea orizzontale ci spinge verso la materia da sinere aughe la verticale verso lo spirito Ma quando ritorno in me sulla mia via a leggere e studiare ascoltando i grandi del passato mi basta una sonata di corelli perché mi meravigli del creato attravertono ci spinge verso la materia la gioca la gioca attravertono ci spinge verso laakkale